Cari signori e gentili signori, buonasera. Grazie di essere intervenuti qui in questa bella festa che vede protagonista Cristian Vitale. Si dice che gli uomini nascono, vivono e poi muoiono senza lasciare niente. E uomini che invece nascono, vivono, lasciano qualcosa al popolo degli umani prima di morire. Ebbene, stasera sono veramente felice di essere qui a presentare questo impegno, questo contributo lasciato al popolo degli umani già in giovane età da Cristian Vitale. Uno scrittore che spero che tutti voi abbiate poi la possibilità di poterlo leggere perché non solo ha avuto un'idea ma nello stesso tempo ha realizzato qualcosa di bello. Ma non voglio dirvi altro perché lo farò dire al diretto interessato. Io voglio ringraziare soprattutto chi si trova qui al tavolo di questa presidenza come Nando Barcaglioni, dite l'obiettivo, grazie di essere venuto, Maurizio Targa del giornale Il Caffè, Alessandro Paiglia del Messaggero. Sono tutti personaggi che con la cultura convivono giorno per giorno e che quindi prima di chiunque altro hanno potuto apprezzare non solo la qualità di questo lavoro d'ingegno ma soprattutto l'entusiasmo messo in questo libro. Io ora farò da motivatore e lascerò la possibilità di far dire anche la loro iniziando da Nando Barcaglioni. Grazie, buonasera a tutti. Io ho saputo di questa cosa di Cristia, a parte io conosco Cristia da tanti anni, non so da una decina d'anni, 12 anni. L'ho conosciuto quando ero un giovincello, ragazzotto, ancora non molto ben realizzato, 20 anni avevi e la prima frase che gli ho detto, tu qui dentro, non dico il posto dove ci siamo incontrati la prima volta, però mi ha fatto un'impressione così positiva che gli ho detto, tu sei una persona che secondo me nella vita non puoi rimanere chiusa qui dentro, devi decollare, hai bisogno di ali più grandi e di spazi più infiniti. E questa è la dimostrazione. Alla fine poi ho rubato anche un po' il mestiere al Mago Tony e il Mago Tony non è qui per caso che un personaggio televisivo, qualcuno di voi l'aveva visto a Forum, a Canale 5 e la signora bionda che c'è a fianco è invece un'attrice perché ha fatto Capri ultimamente, ha fatto film con Verdone, ha fatto anche lei Mediaset. Loro mi hanno avvisato di questa cosa perché nonostante il fatto che io e Cristina, parecchio non ci vediamo perché lui ormai sta a Piacenza con la sua professione, però mi telefonano da Roma e dice guarda che c'è un tuo amico, io ho visto che è su Facebook, non mi ricordo, da che parte? Che ha scritto un libro. Come si chiama? Cristina Vidalio. Ma che stai a dire? Ma quello fa il finanziere sta. Dice no guarda che ha scritto un libro, si chiama Garcio Binoni. Dopo un po' mi arriva la sua email che annunciavo questa cosa. immancabile. Comunque per me è una grandissima soddisfazione stare qui, io me lo porterò in televisione, ci darò tutto lo spazio possibile. Sì sì, non ti ci porto, faremo uno speciale su questa cosa. Per me il calcio, parlare di calcio è come parlare di transex, è un settore che non conosco. Quindi l'ultima cosa di cui posso parlare è il calcio. Ci sono altri colleghi qua che potranno farlo, però dallo spessore, non fisico del libro, ma dallo spessore culturale, dalle prime due o tre pagine che sono riuscito a leggere, perché essendo io anziano non ce la faccio a leggere più di due o tre pagine, mi addormento facilmente. ho capito che è una bella cosa, una grande opera, le recensioni che ho letto in giro sono tutte positive, la stampa nazionale si è occupata, la stampa regionale, noi pure qua poveri locali ce ne siamo occupati e soprattutto dietro è una persona molto valida, la tua commercialista, come la devo definire, è una grande amica che è Carla Pacini, la quale fra un po' alla fine, quando avremo finito di chiacchierare, leggerà una lettera dal cuore, mi ha detto una lettera che viene dal cuore, e lei è all'incarico di leggere, te la scrivono tante ragazze di Pontigna, e lei te la leggerà alla fine. Passo la parola al collega del caffè, grazie a tutti, grazie. Buonasera a tutti, io sarò veramente telegrafico, io al contrario del collega che mi ha preceduto, posso dire di condividere con Cristian la passione per il calcio e anche per alcuni aspetti poco agonistici del calcio, diciamo quasi sociali. Io mi sono imbattuto per caso sul sito, non sapevo neanche che Cristian fosse, diciamo, della nostra zona, della mia terra, e ci ho passato praticamente qualche ora, e meravigliandomi anche della comunanza, così d'intenti, della comunanza del comune sentire, tra me e Cristian, su determinati passaggi, un'ironia che ho, diciamo, riconosciuto molto simile alla mia, e veramente della quale mi sono compiaciuto. Sapendo poi che Cristian era della nostra zona, il nostro giornale è molto attento agli aspetti sociali, almeno cerchiamo di essere attenti agli aspetti sociali della zona, l'ho contattato, ci siamo incontrati, abbiamo fatto un'intervista, abbiamo condiviso alcune schede, eccetera, e la parte finale dell'articolo, che anche, ho visto che Cristian ha avuto la bontà di inserire nella cartella stampa, finiva, appunto l'articolo finiva con il sito ha un grande successo, ora Cristian ha un sogno, è quello di farne un libro. Tutto questo Cristian accadeva a settembre, se non mi sbaglio, e ad ottobre, un mese dopo, un mese e mezzo dopo, mi arriva una telefonata di Cristian dicendomi Maurizio mi hai portato fortuna? Facciamo il libro. Ho detto, madonna, dai. Ci siamo visti diverse volte, ho partecipato, diciamo, alla gestazione di questo libro, appoggiandolo in tutto, in questi mesi, ho la presunzione, ma credo di poterlo dire con franchezza, siamo diventati oltre che amici, oltre che colleghi, e oltre che il rapporto professionale sfociato in un rapporto di amicizia, e a sua volta Cristian mi sta incoraggiando a portare avanti quello che è un mio progetto, che è, almeno da dieci anni, nel cassetto, perché io ho collaborato con, in tutt'altro ambito, insomma, in ambito musicale, ho collaborato con il TG2 Speciale Pop, allora diretto da Michele Bovi, su alcune puntate di TG2 Dossier, da cui mi riproponevo ormai da nove-dieci anni di trarne un libro, e Cristian mi sta tampinando, e sul suo esempio, credo che, insomma, se riusciremo a portarci fortuna reciprocamente, sarà un grande successo. Ringrazio Cristian per l'onore che mi ha fatto di farmi assistere alla sua presentazione, anzi, di farmi partecipare in formativa, e gli auguro tutte le migliori fortune, perché veramente se le merita. Grazie a tutti. Prima di dare la parola ad Alessandro Paglia, del Messaggero, è chiaro che da questo si evince, da questi primi interventi, la grande caratura di questa persona, che io ho avuto la fortuna di conoscere oggi, pomeriggio, perché l'amico comune, Loris, mi ha pregato di venire per dare supporto, ma nello stesso tempo credo che il supporto dovuto è la sua carica umana, quella di fare e di incoraggiare gli altri a fare. Questo non è da poco e non si trova spesso in giro, e per questo lo volevo segnalare. Do adesso il microfono ad Alessandro Paglia per il messaggero. Grazie, buonasera a tutti. È veramente un piacere ed un onore per me essere qui questa sera, nonostante il maltempo che mi aveva impedito in parte di venire, poi ho visto che in effetti dovevo correre qui per dare una mano a Cristian, ma Cristian non ha bisogno di mani, basta vedere già la copertina di questo libro ed accorgersi di come è grande la sua statura sportiva e d'agronista, d'agronista avvero. Ho conosciuto Cristian nel 2002, nel lontano 2002, ci siamo rivisti nel 2010, insomma una cosa veramente grande che non si è persa nel tempo. Cristian l'ho conosciuto come telecronista, io andavo a fare le partite per il messaggero come cronista sportivo, ma sono anche un cronista di cronaca vera, purtroppo, d'assalto, che non augura nessuno. E quindi, l'ho visto sempre presente in queste gare sportive, metterci tutto un impegno, una passione giovanile per arrivare a un successo che lui veramente meritava sul campo. Cristian è un giornalista nato, e lui che adesso dal fare telecronista è passato addirittura alla scrittura di un libro, non è un compito semplice, è un compito abbastanza ardo, poi per quello che ha scritto lui, ha saputo scrivere di campioni bidoni, di campioni che sono riusciti a fare, a rendere quello che in effetti dovevano rendere, avendo percepito decine di migliaia di lire per poter praticare il calcio giocato in altre nazioni. C'è gente che parte dai paesi latini, sportivi, atleti che vengono a giocare dalle nostre parti, ci sono imprenditori che invece con molta leggerizza spendono fior di milioni pur di accaparrarsi la loro opera in campo, che poi, così come Cristian ha messo bene in evidenza, ha prodotto solo danni piuttosto che successi. Cristian, io ho visto che poi in questi ultimi tempi con Cristian abbiamo avuto uno scambio diretto sia su Facebook sia per telefono, sia vedendoci una sera a cena in un piccolo ristorantino prendere una pizza insieme. Mi parlava con enfasi di questo suo lavoro, ma anche con molta umiltà. È un giovane che vuole assolutamente far vedere il suo valore pur nella sua umiltà, senza essere così pressante. Lui con molta gentilezza, con molto equilibrio, con molta savoir-faire cerca sempre di accaparrarsi la simpatia della gente, ma non c'è bisogno Cristian perché già basta guardarti e sapere di che pasta sei fatto. Io mi auguro che Cristian possa proseguire in questo impegno e già da quel che vedo lui sicuramente ha delle carte ancora coperte che non vuole scoprire. Ma sono sicuro che lui già ha preso molti appunti per ampliare questo suo quadro dei bidoni sportivi incontrati. Sono appunti, è un'enciclopedia. Un'enciclopedia, bravo. Io non lo volevo dire. Comunque sono contento così e felice di questa tua convinzione. Io voglio solo augurare che un successo notevole a questo libro perché lo merita, lo merita chi l'ha fatto, lo merita chi l'ha seguito, lo merita tutti coloro che hanno voluto essere vicini a quest'opera, ma soprattutto a Cristian, che sta adesso in questo momento lavorando in un altro settore e io gli auguro veramente di passare in questo settore in via definitiva e anzi anche all'interno della sua arma. Complimenti in bocca al lupo. Grazie.